Allora, grande soddisfazione, che dire, bellissima la vostra corsa, tu da dove cominci? Perché io l'ho sentito praticamente tutti oggi. Dalla fine, dal gol di Riese, grandissima soddisfazione aver vinto in questo modo all'ultimo secondo dopo essere andato in svantaggio. È una grande soddisfazione, però martedì c'è già un'altra partita, quindi l'entusiasmo è bello fino a stasera ma poi bisogna pensare giustamente alla partita di Coppa. Cos'è che secondo te ha permesso oggi alla Roma di vincere? Forse anche la tranquillità che avete mostrato dopo il gol. Un gol subito, sì, 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 questo è, lo dicevo poco prima, lo dicevo che questa è la differenza maggiore rispetto al passato. Negli anni precedenti, quando prendevamo un gol, andavamo allo sbando, riuscivamo a prenderne due, tre, ci è successo più di una volta, invece questa squadra sta dimostrando di avere una grandissima maturità. Sembrava di giocare in casa oggi perché il pubblico a Roma è stato veramente straordinario, uno spicchio fantastico, hanno cantato per 90 minuti e oltre. Sì, è stato bello, poi aver fatto gol lì sotto di loro è stato bello. Di questo giocatore che ha sempre meno del norvegese, sempre più del romano, ha detto il misto, è un furbo, Johnny lo conosco, grande professionista, ragazzo serio, ma è uno che fa spogliatoio. Sì, 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 è vero, è vero. Ha avuto anche lui un inizio di avventura romana un po' difficile, però quest'anno sta uscendo alla grande, è un giocatore eccezionale, un giocatore di spinta, è migliorato anche tanto a livello difensivo e poi è uno di spogliatoio, uno spiritoso, quindi una bella persona. Simone, dove deve guardare adesso la Roma? Perché c'è qualcuno che già parla, vediamo il derby domani, è meglio vince il Milan, è meglio vince l'Inter. No, 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 quando abbiamo fatto questi discorsi siamo sempre andati male. Bisogna continuare con questa mentalità di partita in partita e secondo me ci toglieremo delle belle soddisfazioni, però non andare oltre con la fantasia. Tu sei un ex, però hai giocato qui tempo fa, secondo te quanto se l'è goduta onestamente oggi, Claudio Ragnari che davanti alle nostre telecamere ha mostrato una plomba inglese. Secondo me basta guardarlo al di fuori delle telecamere, te ne accorgi, no. Per lui credo sia una grande soddisfazione più di noi giocatori forse, perché per come è stato cacciato l'anno scorso, quindi se la goderà tutta. Direi anche per lo staff, perché spesso si nomina il mister, ma si nominano anche poi le persone che stanno intorno, che magari la gente conosce meno. Sì, quando dico mister è inteso tutto lo staff tecnico, indubbiamente. Simone, con il Catania e con il Siena diventano due partite difficili, proprio perché la Roma deve riconcentrarsi subito. Oggi il Catania ha vinto 3-0, una squadra che sembra aver acquisito anche una certa solidità. Sì, ma anche all'andata ci ha messo seriamente in difficoltà. È una squadra che gioca bene, giocava bene anche quando perdeva, però con Mijalovic ha acquisito quella cattiveria proprio sua di quando era giocatore. E sarà una bella partita, speriamo di vedere tante persone allo stadio. Grazie, grazie a Simone Perrotta, recuperiamo per il finale il nostro adesso Scharchilli. Grazie.